Negli ultimi tre anni sono aumentati i morosi nei confronti della SACA. La società che gestisce il servizio idrico nel centro Abruzzo deve recuperare crediti per circa un milione e mezzo di euro. Un fenomeno purtroppo in espansione ha fatto presente in una conferenza stampa l'amministratore unico della SACA, Domenico Petrella. I livelli di morosità sono passati da uno standard dell'8% ad un massimo del 13%. Su 52 mila utenze dei 29 comuni gestiti sono circa 30 mila le fatture ancora da riscuotere. L'incremento della morosità, ha commentato Petrella, sta creando difficoltà nella gestione dell'azienda che registra sempre meno introiti. Questo ha un riverbero immediato nella fluidità anche del lavoro che noi facciamo. La SACA è disposta a venire incontro agli utenti invitandoli a recarsi negli uffici di Viale del Commercio per trovare una soluzione o a servirsi dei sistemi di pagamento tramite il bollettino MAV gratuito in banca e l'addebito sul conto corrente. A disposizione c'è anche il numero verde gratuito per l'autolettura 800 098 758. Diversamente interverranno le squadre di lavoro che provvederanno a ridurre il servizio alle utenze morose mettendo l'apposito riduttore di portata dell'acqua, anche se si stanno registrando casi oltre 100 di manomissione dei sigilli che hanno costretto la SACA ad aumentare il numero degli addetti preposti al recupero crediti. Noi abbiamo la possibilità attraverso l'ISEE di ridurre notevolmente il costo per le famiglie bisognose. Per famiglie che guadagnano sotto i 5.000 euro abbiamo un abbattimento del 50% della tariffa. Per chi guadagna meno di 7.500 euro abbattiamo del 40% i costi. Noi invitiamo anche a venire in azienda anche perché nei prossimi giorni metteremo sul campo altre quattro squadre per il recupero dell'amorosità. Nel caso di mancato pagamento comporta anche una riduzione consistente del flusso di acqua. Nel caso in cui questo dovesse accadere sono ulteriori costi anche per l'azienda e siccome l'acqua poi la paghiamo tutti collettivamente è importante che si riduca notevolmente questo fenomeno. Le morosità riducono il flusso di cassa e la capacità di investimento che si attesta sui 650.000 euro con le banche ancora poco propense a concedere prestiti. Nonostante questa situazione la SACA conclude il bilancio 2015 con un attivo di 492.000 euro mentre per il 2016 si va verso una chiusura a più 585.000 euro che consentirà a breve di far partire i lavori per terminarli entro giugno 2017 ai depuratori di Castellisangro, Pesco Costanzo, Campo di Giove, Canzano e Bagnaturo per 7 milioni di euro di fondi FAS. È curioso che il sistema finanziario locale, territoriale faccia così fatica a sostenere un'azienda che poi è un servizio pubblico e che ha necessità di investire sul sistema perché potrebbe ridurre le perdite, ridurre i costi e quindi ridurre le tariffe.